La grande rivoluzione culturale, prima ancora tecnologica, che stiamo vivendo passa anche per i diversi dispositivi tecnologici che noi utilizziamo, ognuno di noi quotidianamente, nella vita di ogni giorno. Sono telefoni cellulari, sono i tablet, il fatto di avere un computer che fino a ieri era uno strumento di produttività, oggi è diventato uno strumento connesso presso quell'ambiente che è la rete internet. Oggigiorno i cellulari, anche economici, sono dei dispositivi connessi tramite le connessioni telefoniche o tramite il wifi, si connettono alla rete, sono fatti, nascono già programmati, già con installati molti programmi per navigare in internet, specchio in particolare sui social network, sono fatti apposta per poter navigare e connettersi. Di per sé loro sono strumenti evoluti, un cellulare ha la possibilità di realizzare delle foto, anche di buona qualità, di registrare l'audio, di far ascoltare della musica, di registrare dei video, permette di scrivere con delle tastiere o di tipo fisico o di tipo virtuale, cioè di tipo touch, perché l'interfaccia, lo schermo touch, cioè sensibile al tocco delle dita, è uno dei motivi per cui i cellulari sono molto naturali nel loro utilizzo. Lo stesso modo per i tablet, nascono un po', come diceva qualcuno, dei telefoni un po' ingranditi, un po' gonfiati, però in realtà svolgono delle funzioni molto interessanti, sono dei veri e propri computer, come anche i telefoni oggigiorno. Lo schermo touch è molto naturale, sono facilmente portabili, le dimensioni possono essere da 7 pollici oppure da 10 pollici e stanno avendo un successo notevole in questo momento sul mercato dei dispositivi in previsione del Natale in particolare. Tramite le connessioni telefoniche di questi dispositivi, che potrebbero semplicemente essere molto più economiche, come in altri Stati europei, oppure con un Wi-Fi cittadino diffuso, pubblicamente diffuso, come avviene in altri Stati europei, tranne che in Italia dove viviamo delle aberrazioni legislative riguardo a poter navigare liberamente in luoghi pubblici sulla rete internet, noi possiamo navigare con gli strumenti che possediamo, che portiamo addosso ogni giorno. Il ragionamento sul Wi-Fi dovrebbe prevedere in realtà un'autenticazione più leggera e più semplice. Si torna al ragionamento sull'identità digitale e sul fatto che io possa partecipare liberamente, con semplicità e facilità, alla discussione, alla conversazione che avviene negli ambienti digitali. Quello che ne ricaviamo è che siamo sempre connessi, quotidianamente, in ogni luogo, in ogni luogo del pianeta, in ogni momento della giornata. Potrei avere bisogno di un'informazione su Wikipedia, potrei avere necessità di scattare una foto e pubblicarla in questo stesso momento, potrei rispondere a un commento sulla mia persona sui social network, posso ricevere dei commenti in base al mio dire, attimo per attimo, tramite il telefonino o tramite il tablet. La mia partecipazione a una vita sociale è completamente, radicalmente cambiata dal fatto di possedere questi dispositivi connessi. Quello che si può dire quindi, ed è molto difficile dire cosa sarà di Internet nei prossimi anni, perché potrebbe ogni giorno nascere qualcosa di innovativo, è sicuramente quello che viene riassunto oggi nella sigla Solomo. Queste saranno una delle possibili direttive con cui si svilupperà Internet, cioè in una direzione che riguarderà il sociale. Lo vediamo ad esempio anche nella fruizione con cui gli altri media si integrano rispetto alla rete. Vediamo la social TV, guardare la televisione e commentarla tramite Twitter, è un fenomeno ormai diffuso dalle TV nazionali alle TV locali. Si creano come dei gruppi di ascolto, delle comunità che commentano uno stesso programma televisivo, il quale viene aumentato, arricchito dalla conversazione che le comunità online praticano rispetto a quello stesso argomento. L'aspetto social quindi, l'aspetto del local, il fatto di essere Internet, oltre a permettere di poter comunicare con l'intero pianeta, anche e soprattutto di innervare, di dare possibilità espressive alle comunità locali. Posso avere ad esempio, stanno esplodendo, stanno rivelandosi veramente utili, l'utilizzo delle mappe satellitari che possono essere aumentati con degli strati di racconto che ognuno di noi può fare, come i segnalibri sulle mappe di Google o su altri tipi di mappe. E diventa la ricchezza della mappa, questo saper suo raccontare il territorio. I cellulari sono dei sensori che dicono dove siamo, e c'è una precisa normativa di privacy al riguardo, con cui possono essere però tratte delle statistiche in formato anonimo riguardo al flusso delle persone sul territorio o nel caso di trasferimenti di mobilità, di sostenibilità. I blog possono essere dei blog urbani, cioè raccontare tematicamente, in modo molto stringente, quello che accade su una determinata porzione di territorio, addirittura con dei piccoli social network di quartiere, potrebbero essere inventati, progettati e messi online, a beneficio dei cittadini che in quel quartiere risiedono e di quanti vogliono partecipare. La connettività poi è mobile, la nostra terza sillaba della sigla solomo, mobile, connettività mobile, che sicuramente sarà il modo come avverranno in futuro un gran numero di connessioni, di partecipazione da parte dei cittadini. Giusto per dire l'entità del fenomeno, qualche numero, in questo momento in Italia un terzo del traffico che si rivolge verso i siti dei giornali, delle testate giornalistiche, avviene tramite dispositivi mobili e per quanto riguarda Facebook, di 14 milioni di italiani che ogni giorno si recano su Facebook, di questi 10 milioni lo fanno attraverso dispositivi mobili, tramite tablet o tramite telefonini. Questo per dire che il cambiamento è già avvenuto, noi viviamo in un mondo decisamente nuovo, con nuove potenzialità, nuove possibilità di espressione di noi stessi attraverso gli strumenti che sempre abbiamo in tasca ognuno di noi tranquillamente, a cui ci siamo abituati senza forse neanche accorgerci.